Ciao Nicoletta, buongiorno. Ciao Gerry, buongiorno. Come va la tua vita? Direi a gonfie vele. A gonfie vele. Sì, mi dispiace dirlo perché visto il periodo che stiamo attraversando qualcuno soffre e io invece sto da Dio, quindi. Bene, cos'è successo? Qual è stato il cambiamento che hai percepito, che ti fa dire oggi a gonfie vele? Dunque, se prima avevo una paura terribile della solitudine, me la sto godendo, me la sto proprio godendo. Quindi in questo momento di clausura, che è stata forzata comunque, io ho trovato la mia dimensione di libertà totale e quindi me la sto proprio godendo, in tutti i sensi, sì. Mi manca solamente il contatto sociale, ovviamente, ma sopperisco tramite la tecnologia e quindi riesco in qualche modo ad avere le persone vicine, ecco. Da quando ci siamo visti, appunto, che ho fatto queste sedute, ho imparato proprio a stare da sola con me. Se prima la temevo questa cosa, non ero capace di stare da sola, avevo bisogno comunque di aggrapparmi a qualcuno e ho proprio interiorizzato il fatto che devo imparare a star bene con me se voglio star bene anche con gli altri. Quindi è stato proprio utile il conoscerti, diciamo così, affrontare i miei mostriciattoli e ora eccomi qui, felice di stare dove sto, come sto. La mia vita è cambiata parecchio, devo dire, parecchio. E anche se ci tengo a sottolineare, mi sono riappropriata di quella che ero io, sostanzialmente, come energia parlo, eh? Come energia. Quindi l'avevo persa nel tempo e è cambiata in quel senso. Sono riuscita a riappropriarmi di questa cosa. Quindi è un po' come se tu fossi tornata a una versione precedente di te, ma più evoluta. Esatto, esatto. Quali sono stati i limiti che hai abbattuto e le risorse che hai potenziato in questo percorso? I limiti che ho abbattuto sostanzialmente sono stati quelli di capire che posso fare tutto, niente mi lega, quindi ho abbattuto diversi schemi, diciamo così, diversi schemi, diversi condizionamenti che mi imprigionavano. Quindi non darsi limiti è una cosa bellissima, bellissima perché ti fa scoprire tante cose che magari ti hai riperso lungo il cammino, ecco. Questo sostanzialmente abbattere i schemi. Quando dici condizionamenti, ecco, mi interessa, cosa pensi? Quali sono i condizionamenti che in qualche modo imbrigiano le persone? Non necessariamente te, però in generale cosa pensi dei condizionamenti? Io dei condizionamenti penso che in gran parte ce li trasmettono la famiglia con l'educazione, la società, quindi il paese dove viviamo, la cultura in generale, insomma, del momento e del luogo. i più forti, credo, dalla famiglia, ecco. Pensi che arrivino dal passato, quindi, dalla famiglia? Dal passato un po', però ce li creiamo anche strada facendo, eh? Ci creiamo delle convinzioni che poi ci limitano, ci limitano molto la vita, ecco. Quali sono le convinzioni più invalidanti, secondo te? Quelle che possono condizionare effettivamente la nostra vita? I condizionamenti, quelli proprio più invalidanti, vabbè, sono credo legati, ora non so, non vorrei urtare la sensibilità di qualcuno, ma quelli religiosi, per esempio, quelli legati ai tabù legati al sesso, quelli credo proprio ci ostacolino in tanti modi. Possiamo dire quindi che gli aspetti etico-morali potrebbero in qualche modo essere utili da un lato, ma potrebbero anche trasformarsi poi in un limite da un altro punto di vista? Sì, io penso proprio di sì, sì. Se mal gestiti, mal usati, sì, diventano un grosso limite, sì. Bene che esistano. Certo, per quanto partano da un presupposto giusto, poi possono diventare in qualche modo invalidanti. E a volte noi non ci accorgiamo di quanto rimaniamo incastrati in questi meccanismi, perché poi può succedere nella vita che andando avanti una persona non si renda conto e in realtà si trova dentro una gabbia fatta di costrutti, di ideologie, di moralismi, anche se pensa di non essere dentro a quella gabbia. È proprio così, non ne abbiamo consapevolezza. Magari uno sta male, non capisce neanche il perché stia male. In realtà, hai detto proprio bene, ci costruiamo delle gabbie. A volte gabbie dorate, eh? Gabbie dorate dove non ci manca niente materialmente parlando, però non stiamo bene e quindi ci autolimitiamo, diciamo sì. L'esperienza che ho vissuto per me è stata positiva perché, diciamo così, che da un... chiamiamola tragedia, ho saputo, grazie al tuo aiuto, anche trasformarla, diciamo, in una benedizione, perché ho colto il messaggio che mi voleva portare. Io credo che la vita sia una grande maestra e quindi ho colto questo messaggio, o almeno credo di averlo fatto, perlomeno per come mi sento ora. e quindi sono grata alla vita che mi abbia messo davanti questa situazione. Sai, in una lingua orientale che non mi ricordo mai qual è, so che c'è un ideogramma che si traduce con due significati. La crisi sostanzialmente viene definita come un problema, ma anche come un'opportunità. Quindi è un po' quello che dicevi te, no? Esatto, esatto. Una situazione apparentemente negativa potrebbe trasformarsi in positiva. Questo forse è un messaggio che possiamo anche, volendo utilizzare adesso, vista la situazione che stiamo vivendo. Sicuramente, sicuramente. Sicuramente hai detto proprio bene, crisi per me è opportunità, perché una crisi ti mette di fronte a quello che sei, ti mette con le spalle al muro e ti dà, come dire, svegliati, muoviti, fai qualcosa, tira fuori le tue armi, datti da fare e niente. A quel punto devi lavorare, perché l'alternativa qual è? Deprimersi, buttarsi giù, cadere in un buco nero. E quindi no, assolutamente no. Quindi per me anche in questo momento dobbiamo trovare il modo, l'opportunità di trovare il lato positivo, in poche parole, insomma. È quello che io sto cercando di fare tutti i giorni e per questo mi vedi comunque sorridente e sto bene. È bello, è molto bello vedere così, perché per me è sempre grande soddisfazione vedere un processo trasformativo in positivo in una persona. Quindi vedere che quando conosci una persona, nel lavoro che faccio, all'inizio è bloccata, sta male, eccetera, e poi vedere questo tipo di reazione mi sembra veramente... cioè ogni volta mi stupisce anche me, perché comunque dico, ma guarda che bello riuscire ad aiutare una persona a fare un passaggio di questo tipo, che poi a volte c'è il dubbio che possa essere anche molto passeggero. Quando io sono sicuro che quando invece il cambiamento avviene in maniera così profonda come è avvenuto per te, in realtà non sia qualcosa che ti può riportare indietro, perché io credo che ormai se ti chiedessi pensi di poter tornare indietro oppure no, non lo so, però a cosa mi risponderesti? Io ti risponderei sicuramente non posso tornare indietro, perché tornare indietro so cosa mi aspetterebbe e io non ci voglio tornare. Bravo. Proprio no. Quindi io avanti, sempre avanti. Bravo. La qualità della mia vita è migliorata tantissimo, tantissimo, perché se una persona sta bene, per forza tutto il resto che gli ruota intorno va bene. Io credo fermamente che se uno cambia dentro e gli cambiano anche tutte le situazioni intorno, per cui va bene così, anche se sono in quarantena va bene così. Io consiglierei ad altre persone e già l'ho fatto, devo dire, di intraprendere un percorso così, perché quando vedo le persone che soffrono è un po' come rivedere me stessa nel passato. Quindi questo mi fa sì che voglia spronare gli altri a migliorarsi, cioè abbandonare quello stato di sofferenza, insomma, che non porta da nessuna parte. È un po' anche, se non sbaglio, un messaggio per dire è possibile farlo. Cioè anch'io magari lì per lì, mentre ero dentro al buco nero, non riuscivo a vedere la luce, ora che sono fuori da lì vi sto dicendo se ce l'ho fatta io lo potrete fare anche voi. È un po' questo forse il messaggio. Sì, sì, sicuramente. È possibile, si può. Si può fare. Si può fare, si può fare. Sì, sì. È impegnativo, ma si può fare. Beh, ma tutto a un prezzo alla fine. È impegnativo sicuramente, ma se uno pensa che lo fa per se stesso, per il proprio benessere, perché no, sacrificarci un pochino. Ci sta. Penso ne valga la pena. Sì, sì. Io all'inizio non mi sarei aspettata, sono sincera, in così breve tempo di raggiungere questo risultato. Però devo dire che la mia natura fiduciosa, perché devo ringraziare anche la mia natura ottimista, ha fatto sì che poi comunque la cosa si realizzasse. Quindi, se da una parte la mia mente forse faceva un po' di resistenza, ostacolava, censurava, dall'altra il mio ottimismo invece diceva, no, ok, va bene. E infatti è andata bene. Quindi in qualche modo la, come dire, la resistenza iniziale che può esserci nei confronti del cambiamento, di seguire delle indicazioni, eccetera, è stata poi combattuta dalla tua voglia di raggiungere l'obiettivo sostanzialmente, dalla motivazione, dalla spinta, a voler in qualche maniera ottenere quello che ti eri prefissata. Sì, perché ormai dall'alto della mia età ho imparato un po' a riconoscere le mie resistenze. Mi accorgo quando la mente oppone resistenza. Quindi è proprio lì che allora dico, no, no, allora devo andare in quella direzione. Se te mi dici di no, io faccio proprio il contrario. E sì, è un po' anche questa la mia natura alla fine. E quindi sì, ho buttato giù queste resistenze, sì. Mi sono andata contro e sono contenta. Il momento più entusiasmante sicuramente è stato quando ho usato i mezzi che mi hai dato. Tutto il percorso fatto in precedenza, dove tu hai fatto sì che io apprendessi che esistevano comunque dei mezzi da poter usare nel momento del bisogno, nel momento proprio in cui c'è stato bisogno e li ho usati, lì il mio morale è andato alle stelle. Veramente toccavo il cielo con un dito. È come avere, come dire, dopo la parte teorica, vedere che l'applicazione pratica funzionava davvero. Esatto, sì, esatto. Mettere in pratica proprio la teoria. Sì, sì, sì. Non voglio fare troppo la filosofa. A me piace tantissimo una frase, tantarei. Tutto scorre. Secondo me tutto va come deve andare. Sta a noi cogliere, come ho detto in precedenza, il messaggio che la vita ci vuole mandare. e quindi è fondamentale l'accettazione. Non passiva, non subire passivamente, ma accettare. Se è così, vuol dire che ha un senso. Trovare questo senso. E così la trovo una liberazione. La trovo una liberazione. Mi ricordo che una volta mentre stavamo parlando durante il percorso mi hai detto proprio se sono qui a fare questo lavoro con te ci deve essere un motivo. Come dire, deve essere comunque una sorta di legge cosmica che mi ha portato oggi a intraprendere questo cammino con te. Esatto, esatto. Io credo molto in questa cosa. È la mia fede, diciamo così. e quindi sto grazie appunto a tutto quello che mi è successo, grazie al percorso che ho fatto con te. Sto facendo sempre più caso a tutte le mie sincronicità, a tutto ciò che mi succede. Mi sento come tornata nel flusso. Mi sono rituffata nel flusso della vita. Io credo, e qui mi rifaccio a un altro più famoso di me che diceva sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Quindi se uno cambia se stesso magicamente cambia tutto intorno. quindi tutte le aree, tutte le sfere sono state toccate. Perché se una persona comunque è più radiosa, è più... se emana una vibrazione positiva, alla fine diventi te un faro per gli altri, diventi un faro nella nebbia. Anche qui ci sono i suoi risvolti negativi, ma va bene così. Va benissimo così. Anche questo mi sembra veramente un ottimo modo per rileggere quello che ti è successo. Perché comunque sapere che quello che è il tuo cambiamento può influenzare positivamente anche le altre persone, le altre aree della tua vita, diventa virale, in questo caso positivamente, per disperdere questa energia positiva che può in qualche maniera, in un'ottica anche un po' cibernetica, coinvolgere sia tutte le aree della tua vita che tutte le persone che hanno a che fare con la tua vita. Esatto, esatto. E in questo momento proprio di virus, di pandemia, mi piacerebbe proprio mandare questo messaggio di puntare più il faro sulle cose positive, mettere l'attenzione sulla positività e non prestare ascolto a questo bombardamento mediatico che abbiamo, di tragedia, che vabbè, esiste, c'è, ok, ma esiste anche un altro aspetto. Quindi magari puntiamo il faro sull'altro aspetto, sull'altro rovescio della medaglia che fa bene, che è virale anche quello, è virale e forse è più utile, no? Forse è più utile. Sì, probabilmente in questo momento, come dico sempre, la parte informativa di tutto quello di brutto che sta succedendo la possiamo raccogliere in un paio di momenti della giornata per 5-10 minuti e poi non è necessario estenderla tutta la giornata. Per il resto possiamo fare tante altre cose che tu oggi hai la possibilità di fare, di gustarti, proprio perché hai svoltato e hai fatto un passaggio profondo che ti permette oggi di viverti diversamente anche quelle semplici cose che magari prima ti potevano mettere un pochino in difficoltà. Certo, certo, certo. Io, io, guarda, in questo periodo in cui sono costretta a casa perché non vado neanche al lavoro e niente, lo sfrutto proprio per dedicarmi a me stessa, a fare quello che mi va di fare, quindi mia a secondo sotto ogni aspetto e visto che ho più tempo a disposizione, proprio me la sto godendo. Io penso che questa cosa sia una bellissima forma di libertà personale che quando una persona la raggiunge poi difficilmente, come dicevamo, prima torna indietro vuole tornare indietro perché insomma non è poco avere questa sensazione di libertà nonostante poi diciamo la verità la situazione un po' particolare che stiamo vivendo in questo momento. Quindi a maggior ragione quello che tu hai fatto hai ottenuto acquisisce un valore. Di sicuro, di sicuro. Io in questo momento in cui tutti, ripeto, si lamentano a volte mi vergogno tra virgolette, mi vergogno di dire che sto bene perché ho proprio trovato la mia dimensione. Ripeto, non mi fa più paura la solitudine, mi dedico a me stessa, medito tantissimo, faccio yoga, comunque ho contatti con gli amici, forse li sento più vicini ora di prima. Quindi, quindi, alla fine, vabbè, mi manca ad andare a fare un po' di passeggiate, ok, ma le faremo. Le faremo. Sono convinta che sì, passerà, tutto passa. Sai che anche io ho la passione delle camminate quindi mi manca molto questo aspetto però insomma appena possibile torneremo a farlo. Ah, sì, 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 e comunque l'energia è alta. Io penso che avrei proprio pensato di raggiungere questa serenità perché me la meritavo. Bene, te la meritavi perché giustamente come nella vita di noi ci sono stati momenti più difficili, momenti che ti hanno messo davanti a una difficoltà, momenti che ti hanno messo davanti a dei limiti tuoi o delle persone con le quali hai avuto a che fare e quindi è stato anche giusto arrivare a un certo punto e prendere un po' la ricompensa di tutta questa fatica fatta. Sì, e poi tutto secondo me è ciclico quindi siamo come su un'altalena e oggi oggi va bene a me va male a te domani sarà il contrario quindi bisogna avere anche un po' di pazienza credo nella vita e accettare quello che ci capita. Il più grosso insegnamento che ho ricevuto da questo percorso è comunque accettare i cambiamenti essere disposti a cambiare non bisogna stagnare perché la vita è movimento la vita è dinamicità non possiamo vivere nella nostra comfort zone per tutta la vita no la vita è movimento la vita è bella e va goduta va vissuta sotto ogni punto di vista bene benissimo anzi ti ringrazio veramente per questi messaggi positivi che riesci a lanciare perché sono estremamente motivanti e utili soprattutto in questo momento come diciamo prima e anzi guarda ti direi visto che sei così brava a trasmettere questa energia positiva ti direi lancia anche un messaggio alle persone che ci stanno guardando ti lascio qualche istante libero di quello che vuoi a chi ci sta ascoltando così puoi emanare questa energia positiva a tutti quelli che vedranno questo video ma io mi sento di dire a tutti che ripeto la vita è bella la vita è meravigliosa è un dono prezioso non bisogna buttarla non bisogna arrendersi mai bisogna accettare quello che viene essere felici anche se lì per lì magari sono cose che possono sembrare tragiche ma ma la vita è bella io non so dire di più la vita è veramente bella e quindi viviamola buttiamo tuffiamoci in questo fiume e viviamo facciamoci portare dalla corrente non stiamo sempre lì a fare i salmoni dico io contro corrente seguiamo questo flusso e da qualche parte ci porta e forse a volte avere anche il coraggio di chiedere aiuto possiamo dire perché non tutti ti garantisco che hanno poi quella come dire quell'approccio che ti porta a entrare in contatto con qualche professionista come me con qualche persona che ti può aiutare perché a volte c'è anche l'idea faccio tutto da solo faccio tutto da sola mi salvo da sola a volte è vero è bene se una persona riesce a farlo però quando non ci riusciamo forse è anche giusto sapere che ci sono delle persone che ci possono aiutare a farlo anche in tempi brevi sì bisogna avere anche l'umiltà di chiedere aiuto sì perché abbiamo bisogno siamo animali sociali e abbiamo bisogno anche dell'altro a volte di chi ne sa più di noi non bisogna avere vergogna non bisogna avere paura bisogna lasciarsi andare fluirte bisogna fluire sì grazie grazie davvero di questi messaggi super positivi che l'anti perché sono veramente contagiosi positivamente grazie grazie questo è assolutamente utile ah non è che io ti ho pagato per dire queste cose confermiamolo no non mi hai assolutamente pagato può sembrare che e non mi hai preparato le risposte è tutta farina del mio sacco grazie ti ringrazio per averlo detto perché a volte qualcuno potrebbe pensare che sono indotte in qualche modo assolutamente no assolutamente no io ti ringrazio per aver condiviso con me con le persone che ci guarderanno questo feedback che mi hai dato su questo percorso che hai fatto credo che possa essere molto utile per tante persone che hanno dubbi sul fatto che fare un certo tipo di percorso seguire un certo programma ti possa effettivamente portare a svoltare la vita a te sei l'esempio lampante di questo processo e quindi sono molto contento che tu abbia messo a disposizione questo pezzettino della tua vita con tutti noi quindi io ti saluto e ti ringrazio veramente tanto e ti auguro tutto il meglio anche a te un bacio ciao grazie ciao 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 ciao